Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, sono Simone e siamo qui in questo nuovo video. Oggi siamo qui nel nuovo episodio di Minecraft Ita e come vedete è una novità molto molto importante per il mio canale. Perché sì, ragazzi, come state vedendo in alto a destra, è ritornata la webcam nel mio canale, nei miei video ragazzi. Perché sì, era da tanto tempo che non portavo un video con la webcam e oggi ho deciso di comprarmene una nuova ragazzi per poi migliorare la qualità del mio canale e la qualità dei miei video. Se volete aiutarmi a crescere su YouTube ragazzi lasciate un bel mi piace e un commento e mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale. Detto questo non perdiamoci in troppe chiacchiere perché ormai ho perso veramente troppo troppo tempo. Ho letto nei commenti di questo ragazzo barra YouTuber e mi ha consigliato, anzi consigliato, mi ha detto che si possono mettere i cartelli sulle ceste. Adesso ci proviamo ragazzi. Ok, proviamoci con shift ha detto, non lo so, blocchi vari. Proviamo, sì grandissimo! Però non mi piace granché, proviamo a spostarlo a vedere se si può mettere in mezzo magari. Non mi ricordavo più shift ragazzi. Proviamo a metterlo in mezzo. Blocchi vari. No, non si può mettere in mezzo. Però bellino anche così devo dire. Bellino anche così, mi piace. Grazie per il consiglio. Però non lo so ragazzi. Scrivetemi sotto nei commenti se vi piace di più il cartello messo così nella parete o il cartello qua nelle ceste. Ok ragazzi, questa è la grotta. Finalmente ci siamo, ho messo un po' di torce per non avere tanti problemi. Come vedete ci sono anche delle barricate perché mi sono difeso dai creeper. Non ho neanche un'edizione, vabbè, scialla. C'è un po' di terra ragazzi perché ho attenzione di prendere tutto quello, tutto questo minerale ragazzi. Come si chiamano queste qua che non mi ricordo più? Lapislazzuli. Va bene, il nome più difficile no eh. Ok, ci servono per incantesimi che tanto faremo molto più avanti. Prendiamo tantissimo il ferro perché ci serve veramente tanto ragazzi. Perché tanti sottovalutano il ferro, l'importanza del ferro. Ragazzi, è importante perché ci fa, a parte le cose di ferro però, ci possono fare i secchi, le forbici, tutto il possibile. Prendiamo dell'orio, io prendo tutto ragazzi perché voglio avere tanti tanti minerali a casa che ci possono essere d'aiuto. E' meglio portarmi ragazzi, sapete che cosa? Quello che blocco è? Ah, la pietra. Dovevo portarmi ragazzi, come si chiama? Il secchio d'acqua. Mi devo portare il secchio d'acqua. Vabbè, intanto noi prendiamo questa via qua. Così ci stiamo un po' lontano dalla lava. E noi andiamo dritto ragazzi. Proviamo ad andare dritto finché non troviamo qualcosa di blu. Che significa che c'è un po' di diamanti. Poi ragazzi, spero che questa idea di ritornare con la webcam dei video vi piaccia. Se è così ragazzi, scrivetemelo sotto nei commenti perché a me mi piacciono tantissimo vedere i video con la webcam e ho deciso così di portarli anch'io. Ok, continua. Ci vediamo ragazzi. Oh, diamanti! Diamanti ragazzi, diamanti! Finalmente ragazzi, per la prima volta. Guardiamo quante ce ne sono senza cadere in una trappola bruttissima ragazzi. Finalmente, finalmente ragazzi, per la prima volta dei diamanti nella mia serie di Minecraft Tinta. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Sono veramente felice ragazzi. Sono veramente, veramente felice. Ok, distruggiamo tutto quello che c'è intorno perché voglio vedere quanti ce ne sono. Ok, distruggiamo i lapislazzuli. Spero di chiamarli bene, non fare brutte figure. Cioè, una, due, tre, quattro e cinque. Dunque, vai, cinque diamanti belli pronti ragazzi. Mamma mia, ho completato anche l'impresa. Ok, sono veramente felice. Spero di... Oh dai, dai, sei. Cinque, vabbè, sei. Ok, giusto. Spero di portarli a casa e non fare un fail enorme perché se faccio veramente un fail li urlo come un pazzo. Grande, smeraldo, mamma mia. Portiamoci a casa anche lo smeraldo. Mamma mia. Quanta redstone c'è ragazzi? Quanta redstone c'è? Se avessi il piccone con fortuna ragazzi sarai milionario. Di redstone, di diamanti, di tutto. Ok, qui non c'è più niente. Andiamo avanti. Oh. Dio. Mio. Fortuna che ho le frecce ragazzi. Così ci prendiamo anche un po' di ossa. Guardiamo che cosa riusciamo a fare. No, c'è solo una freccia raga. Via. Corri forest. Corri. Che cazzo è? Non lo so neanche io ragazzi. Corri. 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 Sì. Ragazzi ce l'ho fatta. Superiamo la notte e mettiamo a cuocere tutto quello che abbiamo trovato. Nella fornace. Sì 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 sì. È la prima spada ragazzi. Anche se forse... Sì sì dai. Ragazzi. Lo devo fare. Lo devo fare. Primo piccone di ferro nella mia storia di Minecraft Ita. Nella mia storia generale di Minecraft ragazzi. Perché non l'ho mai avuto. È la prima spada in diamante. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia ragazzi. Full diamante. Sto arrivando. Comunque ragazzi. Iscrivetevi sotto nei commenti cosa ve ne pare di questa piccola piazza che devo ancora finire. Qua ho tolto dei blocchi che così posso fare diverse vie. Adesso la farm di pecore la cambierò. Adesso non sarà lì. Non credo che la lascerò lì. La sposterò. Ragazzi. Questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Scrivetevi sotto nei commenti se vi è piaciuta l'idea della piazza e che monumento farci. Fontane, pozzi, quello che è. Ok ragazzi. Qua finisco off camera. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.